Sono 25 al momento i casi di contagio da coronavirus confermati in città dal sindaco Michele Abbaticchio durante una diretta sulla sua pagina facebook. In questo periodo è stata particolare preoccupazione la situazione che si è verificata al comando di polizia locale dove c'è stato un sospetto caso da covid-19. Per accelerare i tempi il comune ha finanziato con 8 mila euro circa i tamponi per tutto il personale. La polizia municipale come sapete è stata colpita direttamente da tutto quello che sta accadendo vi dico subito che mi sono un po' rotto mi perdonete il termine le scatole di aspettare gli esiti dei tamponi pubblici abbiamo tolto gli indugi abbiamo finanziato direttamente con fondi comunali almeno quello riusciamo a farlo da soli il tutti i tamponi per tutti gli agenti della polizia municipale per sbloccare anche la situazione in cui ci siamo ritrovati con il nostro corpo di polizia municipale però io vi dico tranquillamente cioè con grande tranquillità e onestà intellettuale che da soli non andiamo da nessuna parte quindi o cominciamo di nuovo a comportarci come ci comportavamo prima quando avevamo paura di andare in in ospedale per per la malattia oppure dopodiché non non andremo ripeto da nessuna parte grazie a tutti Grazie a tutti.